ciao a tutti benvenuti al corso insegniamo la sostenibilità il corso di formazione gratuito d'open source totalmente erogato in e learning dal nostro progetto strategie sociali partiamo da strategie sociali cos'è strategie sociali è un percorso di aggregazione di professionisti insegnanti docenti persone di qualunque genere che abbiano passione e interesse per la sostenibilità ambientale sociale e anche il marketing della comunicazione relativi io mi occupo prevalentemente di marketing da qualche anno a questa parte ma precedentemente mi sono occupato di consulenza ambientale e sociale vengo dal mondo della dell'analisi ambientali della progettazione ambientale negli anni il tema del marketing della comunicazione e della sostenibilità tutto tondo si sono sovrapposti sempre più in questi anni secondo me l'uno non può prescindere dall'altro torniamo al corso cos'è questo corso è un percorso lungo gli sdgs quindi gli obiettivi delle nazioni unite dal 2030 cercando di guardare un po i contenuti di ogni singolo goal vi ricordo che sono ben 17 goal e cercando di tirare fuori in ognuno di questi punti chiave per poter parlare di sostenibilità con i bambini gli adolescenti ma anche con gli adulti perché l'idea di questo corso è molto semplice non abbiamo un futuro roseo davanti in termini di riscaldamento globale non abbiamo un gran futuro davanti in termini economici come paese italia ci sono tantissimi problemi e li viviamo tutti i giorni ma in particolare abbiamo un problema enorme quando parliamo di cultura della sostenibilità sia essa sostenibilità sociale sia sostenibilità ambientale lo vediamo quotidianamente sui giornali inutile che entri in problematiche o in disquisizione di questo tipo quindi una sera chiacchierando con degli amici professionisti ci siamo detti perché non dire la nostra perché non mettere a disposizione di tutti il nostro pensiero basato su anni di insegnamento e di lavoro professionale ma soprattutto l'esperienza nel mondo del marketing della comunicazione dell'open source quindi facciamo un corso che parta dai concetti chiave della promozione da diffusione gratuita e libera di contenuti questo è il punto chiave ripeto gratuita e libera quindi potete fare quello che volete con questo corso copiarlo incollarlo scaricarlo utilizzarlo nei vostri progetti ricopiarlo e rivenderlo non ci interessa open source ha una valenza più grande collaborazione è un termine molto bello secondo me che fa rima con cooperazione altro termine fondamentale e questo progetto vuole crescere proprio su questo è gratuito perché di fatto speriamo che tu che mi stai ascoltando decidi di innamorarti di questo progetto decidi di seguirlo magari il progetto in parte ti piacerà in parte un po meno e vorrai darci dei contributi sulle parti che secondo te sono meno interessanti aiutarci a migliorarlo aiutarci a farlo crescere ogni contributo sarà per noi un vantaggio semplice se tu mi darai un contributo i miei progetti beneficeranno di quel contributo e io ci avrò già guadagnato come vedi il modello di business in realtà non è veramente gratuito perché niente è gratuito e nel momento in cui qualcosa è gratuito la merce siamo noi in questo caso la merce sono le nostre competenze le mie le tue quelle di tutti quelli che parteciperanno a questo corso ognuno di noi metterà gratuitamente un pochettino delle sue competenze chi non le apprenderà gratis delle competenze potrà a sua volta divulgare promuovere questo corso sempre gratuitamente sempre senza alcun ritorno immediato economico perché gli sdgs beh da qualche parte dovevamo iniziare sicuramente una sfida come quella degli sdgs dei 17 gol delle nazioni unite forse la sfida più importante che abbiamo davanti lo vedremo durante il corso sono davvero delle sfide altissime perché partire dal basso partiamo dal top che abbiamo oggi sul pianeta e cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo come lo facciamo lo faremo con questo corso che sarà diviso in 17 lezioni ogni lezione al suo interno avrà dei capitoli o comunque vari termini tecnici ci saranno dei filmati ci saranno dei contenuti da fruire direttamente online leggendo ci saranno delle survey dei questionari delle interviste ci saranno dei wiki dove ognuno di noi potrà collaborare alla riscrittura di alcuni pezzi che magari non ci sono piaciuti tanto o che sono particolarmente importanti e richiedono la necessità di una scrittura comune e così via ogni capitolo avrà una sua sezione specifica e tutto ripeto è scaricabile riutilizzabile dai filmati che faremo alle immagini che saranno tutte senza licenza e quindi andremo a cercare immagini o di nostra produzione o da siti che le mettono a disposizione gratuitamente e con libertà di riutilizzo e così via il quanto durerà il corso non lo sappiamo speriamo che il corso non finisca mai e che continui a essere un work in progress per i prossimi anni perché lo facciamo realmente beh io l'ho fatto lo faccio e ho deciso di farlo perché tutte le sere quando torno a casa guarda le mie figlie ho una figlia di 18 anni che proprio in questi giorni sta dando la maturità ho una figlia di 15 anni e se penso alla mia vita io ho avuto la fortuna di godere in maniera estremamente proficua delle bellezze e delle qualità del nostro pianeta è una grande è un grande furto non poter permettere a loro di avere la nostra stessa opportunità è un furto enorme non voglio e spero di non trovarmi mai nelle condizioni in cui una delle due mie figlie mi rinfaccerà il fatto che potevo fare di più e non l'ho fatto che eravamo consapevoli di quello che stava accadendo e siamo riusciti a fregarcene che dopo aver ricevuto dai nostri genitori delle condizioni migliori di quelle che hanno vissuto loro abbiamo fatto di tutto per dare ai nostri figli delle condizioni peggiori rispetto a quelle che noi abbiamo avuto questa per me è un punto fermo è una cosa molto importante e faccio fatica a non orientare la mia vita professionale in direzioni diverse da queste non è idealismo non è paura e forse un sano razionalismo basato sui dati scientifici che ogni giorno gli scienziati ci danno però non basta non basta e quindi dobbiamo agire dobbiamo fare qualcosa ti invito quindi a partecipare a questo corso non tanto per imparare non è questo il progetto il progetto per costruire insieme qualcosa costruiamo insieme un modello comunicativo che ci permetta di aiutare questi ragazzi a diventare più coscienti ma soprattutto che permetta a noi stessi di diventare più coscienti e lasciare a questi ragazzi un mondo migliore non abbiamo tanti anni è inutile che ci giriamo intorno è inutile che facciamo finta o ci tappiamo le orecchie facciamo finta di non ascoltare o di non sentire il tempo sta finendo come disse obama se non ricordo male siamo la prima generazione che ha la forza di cambiare il futuro e salvare la terra dal rischio del riscaldamento globale siamo l'ultima in grado di poterla fare e quindi non possiamo non agire greta thunberg e tutti gli adolescenti del frider for future ce lo dicono tutti i santi venerdì continuare ad ignorarli per me è colpevole e meschino ed è anche rischioso quindi che dire iscriviti a questo corso partecipa usalo come meglio credi ma soprattutto dacci dei contributi i contributi possono essere di qualunque tipo mandaci un commento commenta sui social condividi porta i tuoi laboratori e raccontaci i tuoi laboratori aggiungi dei filmati coinvolgi i tuoi studenti scegli tu qualunque modo qualunque tecnica qualunque modello qualunque va bene tutto l'importante è contribuire a farlo crescere vedo il timer che comincia a lampeggiarmi a dire stai parlando troppo quindi nei commenti sotto in funzione dal tipo di social che ho dal sito da dove tu stai guardando questo filmato dovresti trovare tutte le specifiche per poterti iscrivere te le ripeto prima di salutarti il corso è fruibile su strategie sociali punto it slash formazione ripeto strategie sociali punto it slash formazione e per iscriversi è sufficiente mandare un'email a formazione chiocciola strategie sociali punto it ripeto formazione chiocciola strategie sociali punto it abbiate un po di pazienza credo e sono convinto che questo corso debba essere sviluppato da persone che si conoscono e stabiliscono una relazione tra di loro e quindi non userò bot non userò marketing automation per valutare la vostra iscrizione e farvi iscrivere risponderò a tutti singolarmente e personalmente abbiate un po di pietà devo anche fare il corso e ogni tanto può lavorare perché torna utile quindi ripeto iscrivetevi venite a trovarci sui social siamo presenti un po dovunque e partecipate 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 grazie e spero di vedervi a breve sulle varie lezioni ciao